bene, allora adesso vediamo come aggiungere alla texture di base quella legno normale, anche la normale e la specular vedremo tutte e due insieme perché abbiamo visto che insieme specular e normal funzionano bene la primissima cosa che io consiglierei è comunque di cercare di fare in modo tale di avere le luci disposte in modo vedete qui abbiamo una luce lì ma la luce fatta così non è adatta per poter vedere le riflessioni quindi la primissima cosa che faccio è di prendermi in object mode mi prendo la luce e la luce invece di averla lampada così puntuale prendiamo uno spot lo spot praticamente vedete che mi fa vedere un po' di ombre l'altra cosa che facciamo è di vedere il nostro oggetto material quindi vedete che con material già si vede un po' l'effetto della luce poi visto che le luci spesso sono meglio quando sono radenti sposto la luce e magari facciamo anche RY la ruotiamo ok in modo tale da avere un'inquadratura dove si possa apprezzare l'effetto riflessione in più un piccolo trucco temperato altri anni fa visto che questo effetto lo si vede bene in rendered vedete ma e anche in material si vede ma per avere la massima mettiamo anche start display ok la massima vista aggiungiamo cioè scegliamo da questa cortola nello shading anziché il multi texture che è il default gli mettiamo il GLSL questo permette di vedere questi effetti delle texture anche quando scegliamo texture qua altrimenti se noi rimanissimo nel multi texture vedete che qua gli effetti di riflessione non si vedrebbero quindi se vogliamo col blender internal vedere bene anche in questo stato ci mettiamo così allora ci mettiamo ci collochiamo in un modo in cui possiamo apprezzare normal map e via discorrendo adesso il pezzo successivo è semplicemente quello di andare a prendere una normal map quindi io mi sono aperto una cartella con la mia normal map una cosa interessante è che posso proprio trascinarla cioè io adesso sono su mac quindi la trascino da un finder ma anche una cartella di windows la si prende avendo la cartella aperta e la si fa trascina cioè si trascina vedete qui che c'è questa bellissima immagine blu che è la normal map la mettiamo qui sul uv image editor e abbiamo vedete che abbiamo a questo punto due immagini wood clean up e wood clean up n aggiungiamo anche la specular quindi trasciniamo la specular anche qui stiamo andando alla presa quindi prendiamo la specular e la trasciniamo ok la specular ce l'abbiamo quindi abbiamo le tre immagini quindi l'obiettivo adesso è quello di riuscire a mettere insieme queste tre immagini allora ricapitoliamo come abbiamo fatto per fare la texturizzazione di questo cubo abbiamo fatto vi ricordate in edit mode quindi noi andiamo qua andiamo in edit mode abbiamo fatto l'uv map l'uv map era l'unica cosa che interessava che l'oggetto fosse uv mappato siamo andati nei materiali e abbiamo aggiunto qui la texture che abbiamo chiamato la diffuse ora aggiungiamo per cominciare la normal map quindi andiamo sul secondo slot new e qui metteremo la normal map e questa normal map l'andiamo a prendere dalla immagine blu viola vedete che in realtà ci ha fatto semplicemente diventare viola il cubo osservate che qui in realtà abbiamo già una specie di specular map perché c'è riflesso ma è una cosa di default che è stata in pratica giusto per farvelo vedere l'effetto è ottenuto da questo specular 0,5 in realtà tra poco noi metteremo una specular specifica di questo cubo allora torniamo quindi la diffuse abbiamo detto che era questo il legno la normale invece è un pochino più complicata per farla vedere occorre beh anzitutto ricordatevi di mettere la mappa quindi UV UV map e poi andate qui togliete l'influenza da questa scheda normalmente ecco nella prima texta aveva influenza sull'intensità di colore della diffuse colore questa noi togliamo il il fatto di metterlo cioè il colore viola in realtà non serviva per farlo viola quindi vedete che siamo tornati al colore del legno ma ci serviva perché noi vogliamo che entri come normale quindi se mettiamo qua vedete che lui applica la normale sembrerebbe bello se non fosse che e viene applicata in maniera eccessiva quindi bisogna andare nell'image sampling e cliccare normal map in questo modo vedete che la normal map viene applicata in modo un po' più parco se poi fosse ancora eccessiva la possiamo ridurre quindi anziché uno possiamo mettere un valore più piccolo per esempio 0,5 vedete o 0,2 ce la faremo mai? 0,2 ok quindi diventa mettete voi il valore che volete adesso per scopi di dati ci mettiamo uno perché viene bella rugosa dopodiché andiamo a inserire anche la texture corrispondente alla nostra specular map quindi new questa diventerà la nostra specular andiamo a selezionare la specular questa e la specular verrà inserita la mappa ricordiamoci no andiamo a inserire non come colore ok vedete che in realtà avrebbe scurito il tutto ma la mettiamo appunto o come intensità vedete che cambia oppure come durezza allora tutti i due gli effetti sono interessanti perché indica quanto riflette la durezza in realtà da risultati come vedete più realistici perché se io gli tolgo la durezza vedete che riflette in un modo in un modo che potrebbe anche andare in certi contesti assomiglia più al legno verniciato no ma questo che tra l'altro è appunto sembra verniciato perché non c'è per niente la specular quindi se noi mettiamo la specular questa vedete che comunque rimane un pochino come se ci fosse una pellicola sopra invece l'hardness cioè la durezza dà proprio un'idea di legno più autentico vedete che riesco a godermi la specular map solo in quanto c'ho anche una corrispondente normal map e viceversa quindi a questo punto io direi che il tutto è pronto nel senso che voi avete tutte le informazioni per poter lavorare con il blender internal e associare delle texture quindi l'unica cosa che cambia è che qui non abbiamo dei nodi andiamo semplicemente ad aggiungere le varie texture che vogliamo associare